Arrivano fino in Germania i sapori e i profumi di Primolio, Primo Vino, la festa dei prodotti d'autunno a chilometro zero, organizzata per sabato 7 e domenica 8 dicembre a Camaiore dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia. L'appuntamento, grazie al primo supporto informativo offerto dall'Ufficio del Turismo di Francoforte e successivi contatti con gli Infopoint versiliesi, è sbarcato anche su un portale dedicato. L'obiettivo è quello di avvicinare i turisti tedeschi alle tradizioni culinarie di tutta Europa, indirizzandoli ogni mese verso sagre e manifestazioni a tema. Quello centrale di Primolio, Primo Vino riguarda i frutti autunnali della Versilia. Vino, olio, miele, castagne e formaggi, ma anche birra, fiori e piante saranno in mostra per gli occhi e il palato nei 60 stand posizionati lungo via Vittorio Emanuele e nelle piazze 29 Maggio e San Bernardino. Ci sarà, come sempre, l'appuntamento dedicato ai bambini con la merenda di una volta, a base di pane e olio, offerti dai produttori locali per accompagnarli a scoprire e gustare i sapori naturali e genuini della terra versiliese. Ancora ai più piccoli sarà dedicato il premio per la migliore etichetta a tema vendemmia e frangitura nel concorso di disegno riservato alle scuole e sostenuto da Cantine Angeli, che nell'autunno di 11 anni fa fu tra i padri fondatori dell'intera manifestazione. Primo olio, primo vino, se possiamo farlo in estratto, è una gara da amici per trovarsi in piazza a chiacchierare dell'olio nuovo e dopodiché vengono premiati coloro che, a detta di tutti, hanno fatto l'olio migliore.